Si riaccendono i fuochi della polemica sul tema sanità e a farlo sono per strade separate il deputato di MDP Danilo Leva e la CGL nazionale. L'antefatto è purtroppo noto. Stiamo parlando del colpo di mano messo in atto dal duo Gentiloni Frattura, gli staglio e olio della sanità che hanno coperto di ridicolo il Molise facendo ridere tutta Italia e piangere invece i molisani per aver distrutto con un codicillo ad hoc il sistema sanitario pubblico regionale. Contro la manovrina di governo e contro l'introduzione dell'articolo 34 bis che ha recepito il piano operativo straordinario voluto da Frattura, non tutti i parlamentari molisani si sono allineati agli ordini del capo. A sottolineare questa verità lampante è stato il deputato di MDP Danilo Leva che ha voluto mettere in evidenza come lui e i due senatori Roberto Ruta e Olisse Di Giacomo abbiano bocciato il provvedimento e fatto prevalere gli interessi del territorio rispetto agli ordini di scuderia. Letto al contrario il messaggio di leva punta il dito contro la parlamentare del PD Laura Venitelli, la quarta della delegazione parlamentare molisana che invece ha votato il provvedimento. Una votazione docile espressa da un teatrino schifoso come ha evidenziato in una nota al vetriolo la fondazione Milani di Termoli che invita i cittadini a non dimenticare i nomi dei parlamentari molisani che hanno votato in maniera favorevole al colpo di mano. Sulla vicenda a testimonianza di come il fatto abbia una dimensione inquietante ed eversiva sul piano dell'autonomia regionale è intervenuta anche la CGL nazionale che attraverso una nota firmata anche dalla sede regionale del Molise parla di uno schiaffo ai cittadini privati di qualsiasi possibile decisione. Tale decisione scrivono dal sindacato toglie al Molise ai cittadini il sacrosanto e democratico diritto di decidere sul modello di sanità più adatto al territorio. In più concludono con la logica del mercato e dei tagli lineari sul servizio pubblico si sposta sempre di più verso il privato ciò che lo Stato come scritto nella Costituzione deve garantire a tutti i cittadini ma il punto è questo la costituzione che nella liturgia renziana del partito democratico è diventata un pezzo di carta straccia col quale rinvoltare il pesce al mercato. Di democratico il partito del dittatorello Renzi e dei suoi proconsoli regionali ha solo il nome.